Condanne appena tra un anno e un anno e mezzo e sette anni di carcere sono state inflitte dal Tribunale di Marsala ai sette imputati del processo con rito ordinario scaturito dall'operazione antimafia dei carabinieri Esperia che il 6 settembre del 2022 vide finire in carcere o ai domiciliari presunti affiliati e fiancheggiatori di Cosa Nostra a Marsala, Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Castelvetrano, Paceco e Partinico. Le accuse a vario titolo contestate agli indagati, 35 in tutto con misure cautelari di varia natura, sono associazione mafiose, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalla modalità mafiosa. La pena più severa, sette anni di carcere, è stata inflitta a Stefano Putaggio, 51 anni, di Marsala, agente immobiliare, ex attivista del Movimento 5 Stelle, accusato di estorsione con aggravante del metodo mafioso, ad un imprenditore che si era giudicato per circa 400 mila euro, un immobile e un'asta giudiziaria. A sei anni invece è stato condannato Vito De Vita, di 46 anni, accusato della cessione di una partita di droga per 1300 euro. A cinque anni ciascuno, condannati Riccardo Di Girolamo, 45 anni, e Filippo Aiello, 77, a tre anni e mezzo, Lorenzo Catarinicchia, di 43, tutti di Marsala, e a un anno e tre mesi ciascuno, pena sospesa, Nicolò e Bartolomeo Maccadino, di 63 e 59 anni, imprenditori del settore ittico di Mazzara del Vallo. Per Aiello l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa è stata derubricata in favoreggiamento, mentre per Di Girolamo e Catarinicchia il Tribunale ha escluso l'aggravante del metodo mafioso. Per i due Maccadino l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Altri 27 imputati avevano scelto il rito abbreviato e lo scorso 14 dicembre sono stati condannati dal gruppo di Palermo Ermelinda Marfia a quasi 230 anni di carcere e circa 140 mila euro di multe. La pena più severa, 20 anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Luppino, 68 anni, di Campobello di Mazzara, ritenuto uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro e a Francesco Giuseppe Erraia, di 56 anni, di Marsala.